Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il mondo del calcio piange la perdita dell'ex calciatore ed allenatore Corrado Sorrentino, scomparso dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Questa notizia, di quelle che avremmo preferito non dare mai, colpisce profondamente soprattutto il calcio dilettantistico. Sorrentino è stato una figura di campo dedicata interamente a questo straordinario sport. La sua assenza lascia un vuoto insostituibile per i suoi cari, parenti ed amici, che lo hanno sostenuto fino all'ultimo giorno. Secondo fonti affidabili, l'ex calciatore ed allenatore ha combattuto contro la malattia per un periodo significativo, con condizioni che si sono progressivamente deteriorate fino alla triste notizia della sua dipartita. Sorrentino ha lasciato un'impronta storica nel calcio campano, soprattutto con l'Inter Napoli, contribuendo sia come calciatore che come allenatore, unendo la sua squadra dalla serie di all'eccellenza. La sua perdita è dolorosa per i tifosi avversari, i calciatori e chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.